Sì, salve. Allora, l'intervento anche del professore di prima mi ha ricordato che in realtà ci siamo conosciuti perché avevo fatto la causa anche contro l'inglese potenziato nella scuola media, che era stata peraltro accolta in questo caso. Il Tar ci ha dato una sospensiva, lo spiego per i non addetti ai lavori, ora io sono un avvocato proprio specifico di amministrazione e quindi anche di scuola e a un certo punto una delle varie riforme nel 2005 ha previsto che si potesse chiedere di non fare le due lingue, quindi spagnolo, francese, tedesco o inglese, due lingue nella scuola media, ma di concentrare tutto il monte orario della seconda lingua solo su inglese e questa scelta delle famiglie. Poi di fatto i presidi di fatto fanno scegliere come vogliono, quindi c'era il rischio che un po' tutta la scuola media italiana andasse a fare soltanto inglese come seconda lingua, il solito meccanismo insomma. E l'abbiamo stoppato effettivamente grazie anche all'impegno di varie associazioni che rappresentano gli insegnanti di spagnolo, di tedesco eccetera. Ricordo tra l'altro che è sempre il solito meccanismo a cascata di cui abbiamo parlato più volte, questo non avere poi sbocchi per i laureati di altre lingue diverse dall'inglese nella scuola superiore, nelle scuole, ha comportato che gli istituti universitari, soprattutto quelli germanici, ci hanno le ragnatele, cioè non ci hanno più iscritti. Qui c'è stato un forte allarme anche da parte dell'università, soprattutto appunto dei corsi di spagnolo, francese e tedesco. Quindi abbiamo fatto questo primo ricorso con centinaia di insegnanti di spagnolo, tedesco eccetera, che è stato accolto dal Tarlazia e ha un po' bloccato questo aspetto. Poi abbiamo fatto, sempre per queste associazioni di insegnanti di seconda lingua diversa dall'inglese, abbiamo fatto anche vari esposti alla Commissione Europea perché aprisse procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, esposti che purtroppo sono stati tutti esaminati da funzionari con nome e cognome inglese e che sono stati tutti respinti anche con un certo fastidio. Per quanto riguarda il ricorso invece che poi abbiamo fatto con l'Era, cioè firmato proprio dal legale rappresentante dell'Era, il Tar Toscana purtroppo lo ha respinto soprattutto per motivi formali, senza entrare molto nel merito, c'era la problematica del difetto di legittimazione di ERA perché avevamo sollevato motivi di tutela della concorrenza e del mercato, dice il Tar, beh ma ERA tutela la democrazia linguistica dunque non ha competenza a occuparsi di tutela del mercato, cioè avrebbe dovuto essere probabilmente, secondo il Tar, un'associazione che tutela i consumatori, cose di questo genere. Noi avremmo voluto fare appello su questo punto, poi la giurisprudenza è un po' incerta, in effetti il Consiglio di Stato, in casi analoghi, faccio l'esempio, se Italia Nostra fa un ricorso contro un piano regolatore perché ritiene che l'Eda ha anche aspetti di carattere di tutela delle bellezze artistiche, spesso questi ricorsi sono stati respinti dal Consiglio di Stato in secondo grado con la motivazione, no ma l'Italia Nostra si deve occupare soltanto della tutela delle bellezze artistiche, delle bellezze del territorio, questo è un problema di carattere urbanistico dunque non è legittimato a fare ricorso su questo campo, cioè si va un po' in questo modo settoriale. Quindi c'era un po' questa problematica, avremmo voluto spiegare al Consiglio di Stato che in realtà è chiaro che per tutelare la democrazia linguistica significa anche tutelare tutto ciò che è connesso a questo. E quindi anche la libertà, come dire, la concorrenza anche e la libertà di insediamento all'interno della comunità europea passa anche attraverso la democrazia linguistica, come abbiamo visto nell'esempio che ci ha fatto l'Avvocato dello Stato. Bene, poi c'era tutto l'aspetto anche che abbiamo esaminato della violazione delle norme comunitarie e qui i giudici rispondono un po' come la Commissione europea ha risposto e cioè che la legittimazione a decidere quale altre lingue comunitarie insegnare è esclusivamente dei singoli Stati membri. Cioè è vero che ci sono dei principi comunitari che invitano al plurilinguismo e a non studiare come seconda lingua esclusivamente l'inglese, ma in realtà poi la scelta pratica di quale lingua favorire è competenza strettamente del singolo Stato membro. Dunque la Commissione, l'Europa non ci può mettere bocca su questo, dipende dal singolo Stato membro. E secondo i giudici del TAR, quindi l'Italia è libera di stabilire a quale idioma in concreto favorire la conoscenza, questo dicono, è affidata agli Stati membri la scelta delle modalità attuative del multilinguismo e fra questo la selezione degli idiomi di cui favorire la concreta conoscenza. In questo contesto, ecco quindi questo è proprio un problema culturale, come abbiamo visto tutta la mattina, resta fermo il riconoscimento dell'inglese come lingua commerciale dominante a livello mondiale. E così via. Quindi secondo i giudici del TAR, ve la segnalo, se qualcuno la vuole scaricare sul sito dei TAR www.giustizia-amministrativa.it è la sentenza numero 1399 del 2011 del TAR Toscana. Secondo i giudici del TAR, appunto, l'inglese è la lingua dominante a livello mondiale per cui è, come dire, la componente minima linguistica auspicata da lui è avere come base l'inglese. Su questo noi avremmo voluto replicare davanti al Consiglio di Stato che invece, secondo noi, l'abbiamo detto, l'ho sentito dire ora, proprio uno degli ultimi interventi, mi pare del neolaureato, il mercato fa già da solo dell'inglese la lingua dominante. Lo Stato, invece, dovrebbe limitare o comunque favorire, tutelare, non il più forte, ma il più debole. E' compito dello Stato, dice l'articolo 3,2 della Costituzione, rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza, limitano la possibilità a tutti di accedere all'uguaglianza. E quindi, insomma, ecco, che sia lo Stato, che sia il Comune, in questo caso il Comune di Lucca, a dire per forza l'inglese, noi avremmo, come era, non avremmo avuto nulla in contrario che il Comune avesse detto che i camerieri devono conoscere un'altra lingua, una seconda lingua comunitaria. Il problema è che mi imponga per forza l'inglese. E questo è il punto.